Il direttore Lucchesi, tra l'altro immaginiamo il presidente Sebastiani, si stia un po' lamentando anche di quello che è il terreno di gioco. Eccolo che arriva Lucchesi, ben rivisto direttore. Ci mancherebbe, immagino che si stava parlando anche del terreno di gioco che non era buono. Quello che passa al convento, noi siamo anche noi ospiti qua e di questo ringraziamo la Viterbese perché senza questo non avremmo neanche il campo. Però, obiettivamente, il campo non è dei migliori. Devo dire che ne ho visti tanti di peggio. Messina? Poi Messina batte tutti. Mammo no, ma ci sono tanti campi brutti. Stavamo proprio parlando che l'uniformità di un campionato è fatta da tante cose, tra cui anche il terreno di gioco. Dovrebbero essere tutti un pochino più omologati, su uno standard, perché così è difficile. La partita? Commento. Un risultato, credo, giusto. Una squadra come Pescara, che rispetto a noi non c'entra niente. Lei fa un campionato e noi facciamo un altro. Pescara si portava probabilmente dietro un po' di scorie di stuttime settimane. Noi non eravamo al meglio perché abbiamo avuto anche qualche defezione, ma dobbiamo fare questa partita a cospetto di queste squadre così più forti di noi. E' venuta fuori una partita molto equilibrata, con poche occasioni per parte. Credo che il risultato finale del pari sia anche un risultato giusto. Dopo l'espulsione di Brosco con quel movimento di Costantino che ha costretto un'ingenuità grande il difensore del Pescara, lei ci ha sperato negli dieci minuti finali? Ma sì, sinceramente mi accontentavo benissimo del pari. Però a quei cinque minuti ti può capitare una palla là dentro e sfruttando il vantaggio il Pescara un pochino si è impaurito, si è abbassato dieci metri, però su due o tre ripartenze ti ha dimostrato che ti può fare sempre gol il Pescara, può fare gol a tutti. Quindi pari va bene, sono contento, l'avrei presa anche prima della partita. Mi dici un ricordo uno di Pescara, quello più bello che racconta sempre più volentieri? Faccio fatica a dirteli perché ne ho tanti. Uno, quello che racconta più volentieri? Sulla terrazza delle Splanade, il giorno che abbiamo avuto il campionato, con Pescara che festeggia, io da lì ho fatto a piedi fino a dove vivevo, una casa che mi aveva dato la dottoressa Aldora in uso, ho fatto un chilometro e mezzo e mezzo alla gente. Anche perché facevamo la diretta, direttore, quindi se la ricorda bene. Aspetti che metto l'auricolare così puoi sentire Massimo Profeta che stava commentando proprio questo suo ricordo. Ora ti sente Massimo. Ciao Fabrizio. Ciao Massimo, ben ritrovato. Ben ritrovato, ti ricordi bene quella giornata perché facemmo anche la diretta come Rete 8 dall'Hotel Esplanade. Bellissima, 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 bellissima iniziativa perché così tutti potevano partecipare a quella bella festa, non solo i presenti. Fu bello per tutti, dai. Una domanda per Lucchesi. La domanda che faccio a Fabrizio, insomma è un uomo di campo, di grande esperienza, sicuramente il Monterosi è una squadra giovane, è una squadra che deve fare il suo percorso, no? Mi pare che ci sia riuscito, fino a un certo punto, nelle ultime 10-11 partite le cose non hanno funzionato, hanno funzionato di meno, diciamo che i punti sono 11 nelle ultime 11 partite, sempre meglio del Pescara, quindi questo dice tutto. Che cosa è successo ultimamente? Che siamo la squadra più giovane del campionato, che abbiamo pagato un po' di defezioni, una rosa corta perché siamo partiti con una proprietà diversa, non avevamo neanche la possibilità di mettere in campo una rosa di alternative, quindi abbiamo un po' sofferto, però i sei giovani che fanno? Partano con entusiasmo, poi nelle difficoltà i giovani vanno un po' in confusione, è normale, e abbiamo pagato. Ora piano piano stiamo recuperando, abbiamo messo anche già troppo io più esperto, io penso che ci riusciamo ad assestare su un trend un pochino migliore, l'obiettivo nostro è salvarsi all'ultima giornata, un minuto prima della fine, per noi è come andare a salire. A proposito Fabrizio, Cancellieri a Perugia? Sì, sì. Cancellieri è andato a Perugia, vero? Sì, l'abbiamo fatto ieri sera, andato a Perugia ieri sera in Estremis 5 minuti alle 8.